Cioè? Invece no, ce la faccio. Dico me la vado. No, ce la posso fare. No, no, ce la posso fare. No, ma finiamo prima. Quando? Prima, un po' prima, un po' prima. Senti, ma... Salmo? Sì. Si è buttato col microfono. 2500 euro. Col microfono, si è buttato col microfono. No, questo, sai, questo lo è. Quello ha spaccato i fiori. Il microfono, io qua giù. Non c'ho niente qua. Sto succedendo tutto. Ma tu mi vedi come sono le vienze? Me lo fate un primo piano dei miei ottimi, per favore, va. Guarda la palpebra, va. Va, la bella è scesa. Ti è piaciuto fino adesso il festival? Ah, guarda, una meraviglia, ti posso dire. Una meraviglia. Bellissimo, l'ho visto tutto. Andiamo. Grazie.